Stiamo dicendo che ci sono stati fatti il chiamo BombBomb e ci sono stati fatti i rubi Ehm, poi c'è Beatluck Poi c'è Applejack Pinky Punk Crystal Pinky Punk Golden Flowers Sush Poi c'è Bitmack Yook Hulk Poi Riff E Mr.Cartcake Che non è già la Blameback Poi Ci sono gli accessori Allora Questo Pettine con questi qua Sono di Celestia come anche la corona e la colana Poi c'è di Princess Cadence Con la corona e l'anelucco Poi c'è di Pinky Punk Ehm, anche questo Questo e le tre gemme Poi questo è di Twilight Con anche Una chiavetta E dentro al cofanetto Si poteva mettere qualunque cosa Non mettere che c'entri Ehm, però io ci ho messo Questa qua Che è Sunset Breezy E quindi questo era Suo Poi c'è la corona di Twilight Che veramente È Sua Però la metto a lei Perché Lì Sta molto bene Poi c'è La bibita di Lira Gli occhiali di Rarity Poi questo è Di Diamond Mint Con Che è la spazzola Mentre questa spazzola È di Twilight Crystal Questo E questo qua Con anche l'animaletto Sono di Bianca Poi questo È di Pretzel Questo è di Flattify Lì Poi ci sono Gli occhiali di Rainbow Dash Lì Di Rainbow Dash Con anche L'animaletto Poi c'è il libro Di Cirlys Poi c'è Il pasticcino Di Pinky Punk Ehm Le mele di Applejack Questo è di Cherry Very Crystal Ok Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale E mettete Tanti pollici su Un bacione E ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie.